Giorno, buongiorno, ora è una capiulina, c'è questa capiulina, la capiulina, scusi? La capiulina, la capiulina, ma non è una ricetta, con un culto di persone alimentate, allora, quando sei ascolto un po', sono un po' cò, la capiulina, mi fa ancora più confusione, la capiulina, la capiulina, la capiulina, una capiulina, quella, 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 quella lì, quella lì, hai vista? quella ragazza la? no, no, sì, sì, quella ragazza, quella ragazza mi piace tantissimo, tantissimo mi piace quella che c'erano quella lì, la violina, la violina che mi diceva, già vai, già vai, già vai rimaniamo al concetto iniziale sì, aspetti cos'è che vuole lei? la violina, la violina perché di magia 850.000 articoli sì e lei se non mi... l'agra fiulina la bottiglietta cosi? eURS- riflusso castrico? sì, riflusso no, 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 no haiодi fiulina, haiva piaciutti una chi, un'악la fiulina l'alga fiulina un'alga?! un'alga? una figlia, finalmente figlia, alga spirulina! avevo uno zio che durante la seconda guerra mondiale faceva il palombaro si è immerso, è stato morso da una murena che gli ha strappato tutta la laringe, parlava più o meno come lei, però lui si capiva, quindi non riuscivo a capire, alga spirulina, va bene, dovremmo averla, lei ha un ovetto kinder in bocca, lei ha un ovetto kinder in bocca, lei ha un ovetto kinder in bocca, lei signore ha un ovetto kinder in bocca, lei ha un ovetto kinder, non viene qui a prenderci in giro, no no no, sputti fuori, non si vergogna, la sua età, quella ha 50 anni, poco meno, lei ha poco meno di 50 anni, va in giro col coso dell'ovetto kinder in bocca, schifo, non si vergogna, con la sorpresa ancora dentro, cioè lei non ha neanche aperto questo figlio, se l'è preso, se l'è infilato in bocca, è venuto qui a prendermi in giro, vergognoso, mi dica cos'è che vuole, come ono, come ono, come ono, come ono,